200 metri misti, donne, l'aria Cusinato in corsia 1, la Wood in corsia 4, la Wood nei 400 misti non ha sentito il fischio d'inizio, pensava che fosse una forza partenza e quindi ha ripetuto la finale da sola e la Cusinato ha rischiato di perdere il podio proprio perché era arrivata terza, quindi se la Wood avesse fatto un tempo migliore del suo l'avrebbe buttata quella al podio. Adesso abbiamo i 200 metri misti, ricordiamo che la Cusinato, capo delegazione all'Università di Napoli 2019, è arrivata seconda agli europei del 2018 a Glasgow, sia nei 200 che nei 400 metri misti e qui a Cusinato ha conto già i Brunson di 400 metri, ma dal capo delegazione si aspetta qualcosa in più, dalla nostra porta bandiera, vai in cerca del primo oro nel nuoto. Qui vediamo la Cusinato leggermente dietro ma anche perché siamo dal lato opposto per vederla bene, è un po' continuo che in realtà ci dice se sta parte o se sta indietro. Tocca per terza per esempio adesso e terza con la prima canzone. Adesso sembra messa bene, è avanzata di molto ma andando verso questa direzione adesso ce la porta in vantaggio, ma sta perdendo leggermente terreno, così ha tre... L'americana è leggermente in vantaggio e qui sono proprio messa al Team USA, è quarta adesso la Cusinato, è quarta. La Cusinato, la Cusinato, la Cusinato, la Cusinato stanno facendo dall'altra parte. Adesso zoomando, non ci dà bene la sensazione di spazio, in realtà è l'area è tra la terza e la quinta posizione. La posizione da podio, ma dove può recuperare? e quella col costume rosa è l'ultima che vediamo sulla piscina adesso è quarta ma c'è l'ultima vasca che lo stia libero in aria tutta il cittadino 4.000 persone da applaudirla 4.000 persone da scanto da applaudirla inglesiani la potete venire a dominare la prima volta bravo, la prima volta il primo oro il suo primo oro il mio destino è lì è un passo alla vittoria vai aria aria adesso tra la terza e la seconda posizione e tra la terza e la seconda posizione vai aria vai aria vai aria vai lì la terza e la seconda posizione è arrivata solo quinta era un passo d'appoglio ma negli ultimi dieci metri ha perso il terreno e da seconda è passato a questo posto mi spiace per lei